bionardo ma te che mangi a firenze baccalà o stoccafisso eh baccalà ma come si fa a trovare lo stoccafisso non si trova a nessuna parte ma poi ti puoi immaginare lunghissimo da fare ma chi è che c'hai il coraggio di mettersi lì e metterlo a bagno e cambiare l'acqua ma guarda non si trova più lo stoccafisso allora senti ti do un suggerimento basta fare 31 chilometri da firenze 30 chilometri e vena a pistola un chilometro e vai dal nostro bruno lottini allora senti ma quindi esiste lo stoccafisso vero a pistola si sentiamoci la ricetta che la dica subito perché io voglio sapere intanto questo è lo stoccafisso si e quindi il su che cosa c'è come è fatto e quindi allora ma si parte all'inizio lo stoccafisso eh beh tutto bisogna venire a sapere tutto eh stoccafisso è da stockfish no? esatto pesce bastone pesce bastone ci vuole circa 5 giorni di ammonte cambiando lo stesso acqua una volta che facevano le mettevano una palla di juta si e lo mettevano nel fiume ah giusto vero ma politico non si può più fare però a questo punto fare questo punto si fa il ristorante quindi solamente per preparare il pesce da focino 5 giorni siamo arrivati al quinto giorno si toglie dall'acqua cambiando la spesa noi lo sbollentiamo per un'oretta d'acqua salata e verdure dopo di che si toglie si sminuzza con le mani si tanto paziente mi arriva tutte le lische tutto le lische giusto a parte si prepara un soffritto però le verdure del soffritto a crudo non soffritto chiaro con passate ai pomodori ah subito partenza così carote sedano cipollà e passate ai pomodori parte spicchio d'aglio e abbondante olio d'oviglio extra meno cipollà bene dopo di che lo stoccafisso sminuzzato lo poniamo nel tegame ampio si lo non c'è cottura di olio soffritto questa importante quindi è un olio che deve dare sapore senza però dare questo problema della soffrittura quindi cottura lunga quanto ci vorrà dopo due ore dopo aver già fatto un'ora di sbollentamento e i cinque giorni dell'acqua quindi pazienza e tanto magari amore per la cucina ma orca miseria senti odorino ma che pazzesco la videocamera non lo racconta non lo racconto io per cui magari ce lo facciamo raccontare dall'elena poi questo mi piace secondo me si 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 assaggia un poccino adesso tanto per capire quale può essere l'idea un po' di peperoncino ah ecco la tradizione è con il peperoncino perfetto allora ci siamo allora si fa questo qui si fa un assaggio a due di pericolato noi qui dobbiamo assaggiare allora ricordiamoci qui ci sono cinque giorni tre ore di cottura che opera 31 chilometri per venire a pistoia capito armando e continuerà a venire a pistoia è stato anche peperoncino giusto senti secondo me il microfono riesce a raccontare anche l'odore perché veramente uno spettacolo in realtà non immaginate assolutamente l'idea di un prodotto greve pesante lo sentiamo molto fresco proprio per questa cottura che gli ha permesso di non avere un soffritto non c'è un olio che rimane a galla quindi diventa gradevole proprio perché molto sentiamo tantissimo le verdure e poi sapere la carne che è diverso ovviamente da quella del baccalato nemmeno carloso perché proprio più dura più svinuzzata ma questo sistema in cui dobbiamo ringraziare che lo fa perché tutta questa pazienza oggi non si trova più e quindi dentro del concetto di una tradizione che veramente sta scomparendo senti ma secondo te se ci facciamo saltare un paio di etti di mezze maniche in questo sughetto ci stanno anche bene e ti posso assicurare un po di prezzemolino senti ma si può fare prima o poi un po di mezze maniche saltate va bene allora ci troviamo al frantoio ciao ciao grazie della vita